Ha fatto il giro del web, come capita sempre in questi casi, il video nel quale alcune persone, peraltro di età differenti, prendono parte ad una vera e propria rissa in pieno giorno alla periferia di Corato. La recrudescenza di episodi analoghi preoccupa e non poco una comunità già piuttosto scossa dalla piaga dei furti d'auto che sembrano in costante incremento. Quanto accaduto in piazza a sedile nella notte fra giovedì e venerdì ha dell'incredibile. Testimoni riferiscono di un parapiglia per futili motivi scoppiato fra alcuni giovanissimi proprio negli stessi istanti in cui una banda di malviventi a poche decine di metri di distanza si impossessava di un veicolo con grande disinvoltura. Qualcosa di simile è accaduto anche nella centralissima via Mercato con l'avvistamento di una BMW intenta nel trainare un Audi Q5 appena rubata davanti a decine di persone attonite. Un altro fenomeno preoccupante è quello degli incendi. Si addirittura non fa quasi più notizia all'escalation di Roghi all'interno del complesso, abbandonato da alcuni anni, che in passato ha ospitato la piscina Diamond e allarmante l'aumento di mezzi privati dati alle fiamme nottetempo. Non solo, i piromani non hanno risparmiato neppure i portoni delle abitazioni, come accaduto già nel mese di maggio. Urge in sostanza una risposta da parte delle istituzioni alla legittima richiesta di sicurezza da parte dei cittadini di Corato.